ciao a tutti e bentornati con un nuovo video allora oggi ritorniamo a parlare di emule allora il nostro ciuchino se voi ci avete fatto caso magari chi sta tentando di fare il download in questo momento oppure magari insomma le persone che tengono aggiornato spesso questo programma magari si saranno accorte che è uscita da pochissimo nel sito originale nel frattempo faccio scorrere qualche immagine una nuova versione però lasciata sempre rilasciata sempre dalla community abbiamo già visto in passato nei video che ho fatto di emule che prende la versione quella rilasciata dalla community ovviamente non è quello ufficiale sono delle versioni e sempre ringraziamo tutte queste persone che lavorano dietro e tengono in costante aggiornamento diciamo il nostro ciuchino quindi in questo caso il video è soltanto un video diciamo di informazione perché ovviamente io ho testato anche questa versione che poi vi ritroverete che è la 0.70 quindi abbiamo hanno lasciato alle spalle la versione 0.60 che era già aggiornata e che funzionava devo dire veramente bene anche io stessa l'ho testata ed ho allontanato la 0.50 che è ufficiale per come vedete sempre nelle immagini quindi abbandonando quell'ufficiale 0.50 che era diciamo perfetta perché infatti è fatta proprio da dai autori di emule dopodiché è stata fatta dalla community per aggiornare sino al 2023 quello che sia la versione 0.60 che andava davvero bene ultimamente è comparsa questa versione 0.70 allora io l'ho tenuta in fase di test e ahimè devo dire infatti questo video proprio di informazione di evitare di installare e scaricare questa versione 0.70 perché veramente crea parecchi problemi e devo dire peccato spero comunque sempre che magari uscirà qualche altra versione che possa essere la 0.71 quella che sia che correga tutti questi errori prende emule installando questa versione quindi in aggiornamento non funziona più come prima quindi va il problema principale proprio il succo il problema principale è proprio la lentezza ed emule effettivamente abbiamo fatto un video di apertura porte per farlo andare veramente veramente veloce a velocità veramente sostenute e andiamo a installare una versione aggiornata che il proprio il problema è quello della velocità anche con l'apertura delle porte e tutti i settaggi ho detto io purtroppo questa versione di emule 0.70 va davvero davvero lenta quindi video brevissimo il mio consiglio è per chi ha la versione 0.60 e va bene con tutta la configurazione che ho dato io nei video precedenti allora potete continuata e continuare vi consiglio non è un dovete ma vi consiglio di mantenere la versione 0.60 per chi vuole invece sempre la versione ufficiale fatta in versione ufficiale tenete sempre installata la versione invece 0.50 che è davvero perfetto ed impeccabile come alla fine la 0.60 la 0.70 almeno momentaneamente con questo video poi magari farò un video dove esserò magari qualche altra versione aggiornata e magari possiamo finalmente dedicare un video alla versione 0.70 o 0.71 che va davvero bene però fino ad ora vi consiglio di non aggiornare il vostro emule e lasciarlo così per come perché la 0.70 va da davvero problemi di velocità spero insomma di essere stato aiuto sempre a tutta quella cerchia insomma di amici di emule e ci vediamo sicuramente al prossimo video ciao a tutti